Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 19 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio ad eccezione della Sardegna dove sono attese piogge e rovesci. La ventilazione media proverrà dai quadranti settentrionali e risulterà di debole intensità mentre i mari risulteranno generalmente calmi o poco mossi. Per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature saranno in diminuzione su tutto il territorio. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili ma accompagnate dalla presenza di molte nubi in particolar modo lungo il versante orientale sul basso Chietino. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento con i cieli che risulteranno sereni o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie.